Puzzo del Valentino Questa è l'Imasino C'è il presepe? 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 C'è Almachia C'è il presepe? C'è il presepe? C'è il presepe? C'è un presepe? Grazie. 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 Allora. era Maria Giovanna Battista di Savoia nel muro, se non che prima madama reale proprio per questo motivo Carlo Francesco I in realtà venne allontanato da Carlo Savoia in quanto lui era a servizio del figlio di Maria Giovanna che era Vittorio Amedeo II perché madre e figlio non andavano d'accordo e quindi allontanano anche Carlo Francesco I perché pensavano comunque fosse troppo del letto troviamo ancora pure fatte della trapezzeria che era una trapezzeria molto importante questa è una tolta ma insomma probabilmente fu anche molto romanzata una volta si non è la tolta ah già allora questa invece era la camera da letto della regina come potete vedere ricordiamo sia il baldacchino del letto che è anche nel sepoltrone di arredo quella che era la vecchia carta da parati carta scusate molto importante ancora seicentesca e troviamo l'allegoria e la rappresentazione delle stagioni dell'anno questa è la giovinezza l'infanzia che è la primavera qui dietro non lo vediamo perché c'è questo immenso baldacchino abbiamo l'estate di qua abbiamo l'autunno che è l'età matura e poi invece dietro di voi è la vecchiaia che rappresenta invece l'inverno in questa sala troviamo dei bocchettoni di battista di Savoia Nemur sempre lei la regina musica perché se osserviamo di sotto degli archi della volta ritroviamo dei finti balconi con dei finti suonatori che appunto stanno suonando degli strumenti musicali inizialmente questa perlomeno quando nel settecento è stato rimodernato tutto questo appartamento gli aveva volti ok allora c'è solo silenzio perché c'è un altro gruppo passiamo di fianco e andiamo il sette originale che sarà corrispondata non solo non solo che è un altro gruppo che è un altro gruppo di cani del fire e gli altri ci hanno visto che stiamo salendo ci sono pezzi è qualcosa la valuta in pietra con questi vasi che rappresentano le tre grazie sempre in pietra guardiamo come invece le pareti di questo scalone sono in finto chignato e anche in questo caso secondo me anche come è il ristorante metastasio comunque guardia a seda se non mi ha chiusato così o forse non mi ha chiuso perché non mi ha chiuso non mi ha chiuso non mi ha chiuso non mi ha chiuso sì questa è la galeria che viene chiamata la galeria dei poeti in quanto come potete vedere sulle pietra che sono qui domanda con questi vinti però non è meglio per la funzione ma non è nel decorativo perché è il mio decorativo riportano questi modi che ricordano i principali dei liberati cittadini quindi una celebrazione all'epocazione della liberatura cittadini si parte da Dante di una cittadina di una cittadina sulla nostra sinistra e Maria Maddalena Morelli al lato della porta sul lato destro che sono rispettivamente due cortezze che vivono una la colonna della prima cosa del Settecento e invece Maria Maddalena Morelli vive delle prenotate che prima della Settecento e cinque cittadini si tiene inizialmente questa è una cittadina non sappiamo la cittadina 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 tantissimo in castello avere un ambiente dedicato alla celebrazione di Casa Savoia quindi la casata principale del Piemonte a cui loro erano strettamente legati in realtà la galleria che abbiamo visto in precedenza era la galleria Savoia che poi nel Settecento è diventata un nuovo modernamento è diventata la galleria che c'è di bello è pulpito è pulpito è pulpito è pulpito sono stati realizzati da un scrittore che è un amico che si chiama Poet si chiama Regrazzo del Pelle due le donne in realtà sono dei cortigiani e non solo perché ho qui tutto per esempio quel personaggio bruttissimo che vediamo qua là così all'antolo lui era il secondo il secondo che fu il spagnolo che morì nel 1776 fare così allora questa invece è la camera degli ambasciatori di Spagna come possiamo osservare sulla volta ritroviamo la rappresentazione delle province cioè delle casate che dominavano le province di Spagna fino all'arrivo dei borboni i borboni che arrivano nel 1701 con il matrimonio Filippo che è il vento V re di Spagna e la figlia di Vittorio di Spagna ma che figli qui da quell'are che non la vassa per chi fosse per la vassa eh però Pino è il suo nome ogni stanza si deve fare puricadre e dopo tu lo piaccia dopo c'erano i servizi eretti che li versano però è vero sì ma dopo noi dobbiamo buttarla però è quel che è il problema questo da un settembre viene chiamata la Camera dei Capasciatori d'Austria in quanto sempre sulla volta ritroviamo la rappresentazione delle famiglie reggenti delle varie prodigie d'Austria quindi c'erano amici con l'accenti reggenti lo condo primo e la moglie Marietta piena di barriera in questo senso è stato risulturato anche di recente questo bandacchino vediamo che la stofra è un po' sbiadita ma è stata lasciata così volutamente proprio perché questa stofra è sbiadita in quanto il colore verde veniva realizzato con una base metallica che attraverso la luce e il colore e il colore si è sbiadito durante il restauro sono stati sciolti in questi nomi chi fa pensare per tre sono un colore che ha quasi il colore eccente quindi vediamo si sbiadita parecchio però in realtà le cose sono scelte e non è ancora conservata ma se va bene il palimento invece è il colgio vetto non è più ricordo come vediamo ma è il colgio vetto questa stanza in cui noi ci troviamo adesso si trova esattamente sopra un antico loggiato di epoca seicentesca che poi nel settecento è stato chiuso per problemi di stabilità perché non vi ho detto fino ad ora che il castello di Masino ha dei grandi problemi di stabilità in quanto è stato costruito senza fondamenta la ristrutturazione di questo castello si è tentato era comunque il perfetto doveroso di fermare quello che si vuole meglio e quindi di rinsaldare le strutture di rinforzare di rinforzare Guardate, guardate. Che bello, che bello, che bello. Che bello, che bello. Qua si può spazzire. Insomma, loro fanno praticamente delle visite lunghe per i singoli. No, no, per i singoli. Nel senso che la domenica, se vuole, viene qui. Sì, sono inizio, credo, è inizio. E quindi portano anche, fanno questo percorso, la giunta di quest'agile, ecco. Allora, riusciamo magari ad entrare, scusate, a figiarti un pochettino? Non lo so, che è molto piccolo. Troviamo il vicere, là. Vagli lì in mezzo, mentre con la piume in mano. ...to sto schiedendo. ... Grazie. 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 Ah, che c'è anche il biliardo. Ma quando risale il biliardo? Nel 600? Mi guardo. Allora, questa invece era la sala da gioco, perché ovviamente gli ospiti che arrivavano a quel castello dovevano essere incatenuti in qualche modo. Quindi solitamente gli uomini giocavano, giocavano a miliardo, mentre le donne si occupavano del gioco, però giocavano a carte, piuttosto che a dama, quindi questi giochi che ritroviamo invece da questa parte. E poi, come potete osservare, ci sono dei numeri, anche qui a seconda di dove usciva la pallina veniva segnata un certo burleggio. In questa sala ritroviamo una decorazione più o meno in linea con quella che abbiamo trovato prima, molto più raffinata, secondo me, e anche molto più ricca. Troviamo che la facciata è pronta a me, e invece su questa pulatura, questi tonti che rappresentano delle battaglie, battaglie navali, e invece dietro le mie spalle, e da questa parte invece dei tonti con delle battaglie di terra, che rappresentano delle scelte di battaglia in cui il Valverde di Pasino hanno realmente combattuto e hanno vinto, anche perché i Neurone, si è fissato che andavano così. Allora così invece è la stanza delle tre finestre, e questo era proprio il loggiato aperto di cui vi parlavo prima, infatti qui sopra la nostra testa praticamente ci sono le due stanze e degli ambasciatori non sono fatta. C'è una ragazza che ha realizzato il panno? Sì, adesso ci siamo, se ne sono accompagnati. Praticamente si esce da questa porta subito sulla destra, dato due minuti ci hanno fatto un po' Allora, dicevo, questo è ralloggiato, qua sopra abbiamo le due camere degli ambasciatori d'Austria e degli ambasciatori di Spagna. Tra finestre, sì esattamente, tra finestre in quanto appunto questo vi dico che non potete andare, se volete fare un porto a me, a me, a me, a me, a me, a me. A me, a me. A me. Cicco. Perciò fa il treno. Sì, sì, sì. Sì, sì. Quattro ore di tempo. Alla sabola mattina. Alla massima. Ah, guarda che giorno. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. così la visita è conclusa per la mia parte è più significativa si è piaciuta? si è piaciuta? si è piaciuta? si, si è sorvenuta perché mi è piaciuta no, è una mia visita si è ormai si è ormai si è ormai ma allora sì è ormai se è ormai sì sì si è ormai ma se è ormai c'è quello che si nascosta fa le brioche la rotonda allora c'è il salone che mi vedete se mi fermi è un altro salone che mi erano mangiato perché ho fatto tutto se non poter essere in gioco questa volta da un figolo, cioè che non io e dalla morte che era una simile di pianeta quindi è proprio un'altra famiglia di spingare per un cristiano per un cristiano una volta vai subito sulla sinistra vai buongiorno la biblioteca dove si trova? la biblioteca la biblioteca ci sono due nuclei non si vuole dirne uno tanto per no 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 perché facciamo delle visite no solo fotografare un secondo e basta niente no no fotografare assolutamente capito che come ho detto ma che ci sono libri pornografici? no all'indice? all'indice? sì 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 tanti tanti libri all'indice ci siamo una licenza particolare per i libri all'indice ah ho capito che miseria ma ne pare che le sono tolte però sta dell'indice non so mi pare che le sono tolte la roba dell'indice no certo che sono stati all'indice ah ho capito è solo la scritta sopra che toglia anche via grazie grazie alla quale c'è il signor Rossi la scusa di flora proprio in questa cartella in questa cartella in una cartella che è stata in una cartella che vengono celebrare due mesi all'anno per voler ah si può entrare? si si potete entrare della Marchesa di Lehmann e della Marchesa di Lehmann scusate e quindi prendete due due sali a me anche anche l'abirinto un po' si è l'abirinto l'abirinto ci piace l'abirinto? autentica esperienza emotiva e spirituale l'ingresso significa che infatti intraprende un percosignato a periodo di tutte quelle indicazioni visive e nell'orientamento provocando dunque un senso di sommarimento arrivino è lungo anche un chilometro l'abirinto mi ha detto a mio marito metto le gambe su no non si per me l'abirinto la carrozza è chiusa per il transit di un'abirinto di un'abirinto Questa è la carota che prevede il mio anno, Castello e Parco, il Massimo, il Massimo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.